Salmo 24 Salmo di Davide All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha affondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno e chi potrà stare sul luogo suo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con intenti di frode. Egli riceverà benedizione dall'Eterno e giustizia dall'iddio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano la tua faccia, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri capi, e voi, porte eterne, alzatevi, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. O porte, alzate i vostri capi, alzatevi, porta eterne, il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È l'Eterno degli eserciti. Egli è il re di gloria.